Intanto lo sciopero generale è annunciato come possibilità dalle confederazioni, vediamo che cosa succede, oggi c'è un incontro in corso per vedere se si riesce a modificare quel decreto. Gli operai fanno tanti accordi e anche qualche sciopero quando le aziende si rifiutano di fare gli accordi che intanto per mettere in sicurezza chi lavora nelle condizioni di sicurezza e secondo per chiudere quello che non è essenziale. E' successo che se tutta l'Italia parla giustamente di questa emergenza, se non si può uscire di casa, se non si può portare fuori il cane a fare la pipì, se dobbiamo stare tutti chiusi per far passare in fretta questa emergenza è impensabile che l'industria lavori come se nulla fosse. Tra l'altro nel resto d'Europa non sta succedendo questo, in molti paesi l'industria è ferma. Noi lavoriamo per la Germania e non arrivano le richieste di lavoro, arrivano le casse integrazioni perché la Germania è ferma e quindi è inutile che noi lavoriamo. Però costruiamo le fusoliere per i Boeing nel sud Italia, però la fabbrica di Boeing è chiusa quindi ce le teniamo in magazzino le fusoliere. Nell'elenco ad Ecco, come è stato presentato, c'è dentro un po' di tutto nell'esplosione dei codici c'è la fabbricazione delle giostre. Confindustria ha mandato una lettera al governo e ha fatto pressioni perché questa lista si ampliasse tant'è che è stata raddoppiata. Ma in più, le voglio dire una cosa, queste prime ore stanno arrivando alla prefettura migliaia, migliaia anche dalla Lombardia di comunicazioni di aziende che non fanno parte di quei settori e che dicono noi continuiamo a lavorare perché magari facciamo un centesimo della nostra produzione per il biopedicale e li portiamo tutti a lavorare. Quindi stanno allargando le maglie in un modo inarrestabile. Noi chiediamo che lavorino davvero solo le attività essenziali, che tutto venga chiuso, quello che non è essenziale per due settimane, così come è stato, ma davvero tutto quello che non è essenziale, che invece vada potenziato quello che è essenziale e quindi tutto quello che ruota intorno alle filiere fondamentali per questa fase e che permette alle persone di comunicare, che permette agli ospedali di funzionare, che permette alle merci di essere trasportate, che permette ai prodotti elementari di arrivare nei negozi, che permette di fare manutenzione a tutti i mezzi necessari, questo va potenziato. I lavoratori che lavorano in questi settori devono avere il massimo della cura e quindi va riversata su quei lavoratori, tutti i dispositivi che invece mancano, le mascherine, i guanti e tutto quello che è necessario, i trasporti in più per consentirgli di stare a distanza, tutta la cura va messa su questi elementi qui, il resto si deve fermare per ripartire prima.